benvenuti in questo video oggi per l'ennesima volta parleremo dei sistemi di automazione non sarò sola insieme a me ci sarà pietro tibaldeschi fondatore di i docs esperto nel settore che potrà fornirci tutte le informazioni necessarie che servono per automatizzare il più possibile il nostro business online pertanto partiamo ecco con noi oggi ci sarà pietro che ci parlerà di sistemi di automazione buongiorno pietro ciao ciao sonia dietro non so se vuoi raccontarci un po di te chi sei allora mi chiamo pietro tibaldeschi io da molti anni circa 15 mi occupo di e commerce in particolare di marketplace ho fondato una azienda che i cui marchi do appunto it che ha proprio come focus quello dell'efficientamento dei processi delle aziende che vendono che vendono online noi abbiamo conosciuto noi l'impatto abbiamo conosciuto pietro grazie ai docs perché eravamo alla ricerca di un sistema di automazione che collegasse un po di marketplace e l'abbiamo conosciuto grazie ai docs allora pietro iniziamo subito entriamo nel vivo di questo video ti faccio giusto qualche domanda in modo tale da poter spiegare magari detto da te che sei una persona un po più esperta e più tecnica farà anche più effetto in modo tale da poter spiegare che cosa sono i sistemi di di automazione a cosa servono e per chi sono utili prima domanda innanzitutto che cosa sono questi sistemi di automazione perché per chi magari non è del settore non è esperto molto spesso non sappiamo proprio di cosa stiamo parlando quindi se vuoi un attimo fare una panoramica spiegarcelo tutto certo beh intanto è da dire che i marketplace e l'e commerce ha visto una progressiva hanno visto una progressiva crescita negli anni quindi quando questi mercati hanno iniziato ad essere popolati da soggetti professionali che lì sopra appunto facevano affari naturalmente tutti coloro i quali si sommossi hanno iniziato a predisporre una serie di sistemi affinché i merchant potessero operare in modo diciamo quanto più fluido quanto più a basso costo ecco in termini di operazioni ricordo ancora che noi siamo partiti dal mondo di ebay che era percepito all'epoca come amazon in italia doveva ancora venire naturalmente in italia era percepito il mondo di bay come un pochettino il mercatino delle pulci e perché era popolato soprattutto e tanto da attori che erano diciamo non professionali alcuni di questi invece hanno trovato uno spazio uno spazio commerciale importante e quindi cosa hanno avuto necessità di automatizzare una serie di operazioni che al momento della partenza avevano fatto manualmente quindi in questo senso mi riferisco ad esempio alla pubblicazione di prodotti la pubblicazione di prodotti veniva fatta attraverso l'interfaccia di ebay quindi collegandosi dal sito digitando la descrizione, facendo l'upload dell'immagine in qualche contesto appelletto il template un po' come fanno la maggior parte dei venditori anche su amazon adesso sì per chi si accosta è diciamo il passante un pochettino obbligato quello a onore del vero non credo neanche che sia sbagliato però se pensi Sonia a coloro i quali sono tenuti a fare decine centinaia di pubblicazioni di prodotto tutti i giorni naturalmente per questi operatori diventa indispensabile avere un sistema automatizzato allora all'epoca ebay ha rilasciato il suo primo set di api che consentiva a tutti gli operatori di automatizzare una serie di processi api sta per application programming interface ed è uno di quei di quegli attrezzi del mestiere che consente di fare e operare delle integrazioni quindi scambiare dati tra piattaforme ma non solo ebay aveva il suo buon turbolister che era da un certo punto di vista uno strumento volto a efficientare i processi che poi è stato abbandonato qualche anno fa e oppure scambio file di nuovo era una tecnologia rilasciata da ebay per poter dar modo agli operatori di caricare tante inserzioni una volta a partire da dei file csv quindi è qualcosa che probabilmente anche tu hai già sentito menzionare qualcuno che ci ascolta ha sentito menzionare naturalmente via via che il mercato è cresciuto sotto il profilo economico io ricordo che nel 2009 gestivamo uno dei più importanti operatori dell'ambito dell'automotive e su ebay faceva già 4 milioni di fatturato quindi iniziavano a esserci delle aziende vere e proprie no quelle aziende che e di cui non c'è magari percezione fisica perché hanno un ufficio e magari al terzo piano di un palazzo di provincia però che muove dei volumi come quelli che noi riconosciamo in quegli edifici a forma di fabbrica con tanto di macchinari eccetera ecco iniziavano a svilupparsi delle realtà importanti naturalmente crescendo le esigenze crescendo gli affari si è sempre più spostato il focus sul sul sui processi tecnici quindi sono iniziati a nascere oltre naturalmente al nostro software noi non eravamo assolutamente i primi non lo siamo e non lo siamo tutti i giorni qualche operatore che fa quello che faccia noi naturalmente ecco dicevo sono iniziati a nascere una serie di operatori che avevano come scopo quello di mettere in condizioni i merchant di svolgere delle attività che fossero quanto più automatizzate quindi i sistemi di integrazione che esistono oggi hanno lo scopo detto in termini economici se vogliamo prendere dall'essimo dell'economia hanno lo scopo di efficientare dei processi che sia che siano sia sul fronte della pubblicazione gli articoli quindi la distribuzione del catalogo sia che riguardino l'elaborazione degli ordini che arrivano dai mercati diciamo che io che interfaccio con tante aziende tutti i giorni mi rendo conto che sicuramente molto spesso le aziende non sono strutturate ma se sia a catalogo parlando dell'automotive mi riferisco a mio cliente in particolar modo a più di 100 mila prodotti a catalogo e mi rendo conto che innanzitutto non è fattibile caricarli manualmente uno per uno su Amazon così come su eBay così come su tutti gli altri marketplace ma nel caso in cui dovessero arrivare tantissimi ordini anche in quel caso non è possibile gestirli manualmente quindi sostanzialmente i sistemi di automazione servono proprio per velocizzare tutti questi processi ci vuoi dire Pietro quali sono questi strumenti cosa fanno praticamente e quali sono appunto beh allora mi sento diciamo di annoverare come minimo tre ambiti il primo che particolarmente noto e perché diciamo è strettamente correlato alla nascita allo sviluppo dei motori di commerce open source come magento presta shop commerce e così via sono quelli che vengono detti plug in quindi lì il bisogno che viene servito è l'utente ha un'installazione del suo sito e commerce ad esempio fatta con magento e da lì viene l'esigenza di prendere il catalogo che è disponibile sul sito per poterlo distribuire ad esempio su amazon o su ebay essendo questi motori di commerce particolarmente diffusi e troppo sovente secondo me vengono diffusi con quella diciamo escamotage tale per cui open source uguale gratis quando non è così in realtà e facendo una divulgazione che va nella direzione sbagliata nel mio modo di vedere ad ogni modo essendo molto diffusi questi motori di commerce naturalmente tutto e tutti gli ecosistemi correlati sono diffusi quindi plug in per per popolare i mercati sono sono noti altrettanto noti alcuni più noti come mi viene in mente m2 pro e per magento e altri magari meno noti questo è il primissimo poi ci sono dei middleware può essere quello di doc che sono sostanzialmente dei chi più chi meno poi dipende dall'architettura dei soggetti che si pongono in mezzo tra mi chiamo con editori forse sbagliando ma di solito perché connettono si 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 esatto allora la vera notizia che non si sbaglia perché in realtà questo lessico non sia ancora veramente sedimentato c'è chi li chiama collettori o connettori chi li chiama gestionali chi li chiama middleware chi li chiama semplicemente software di pre vendita di post vendita insomma non c'è un lessico davvero che sia consolidato connettori rende diciamo rende bene l'idea ad ogni modo sono software che si frappongono tra tutti i front end e quindi tutti i soggetti che sono deputati alla vendita del catalogo che sono pronte ad acquisire il catalogo e naturalmente tutto quello che viene prima e quindi in certe circostanze che sono il gestionale aziendale può essere una delle dei tasselli che viene chi viene nel nostro caso a nostra volta noi mettiamo questo questo tassello si si costituisce di api e quindi di uno strato di come dire uno strato tecnico che può essere impiegato anche al di là dell'uso dell'interfaccia cos'è che vuol dire che alcuni nostri clienti impiegano il software di fatto senza fare mai accesso al pannello mentre esistono altri software che che preventi che non prevedono questa questa possibilità o altri che la prevedono magari addirittura resa più performante ancora più come dire più ricca delle funzioni tieni presente che alcuni di questi connettori sono diventati delle multinazionali in borsa l'antesegnata c'è un avviso a quella quella strada ecco la terza diciamo il terzo gruppo in cui mi sento di raggruppare questo genere di di attrezzi viene dagli stessi marketplace e quindi tutti i set di api e gli stessi marketplace mettono a disposizione quindi ciascuna realtà ed esistono naturalmente che abbia il desiderio di integrare direttamente la sua applicazione il suo software il suo motore di commerce il suo gestionale il suo erp ad esempio ad amazon può fare richiesta accedere alle piai e quindi dall in avanti provvedere alla all'integrazione naturalmente diciamo le tre i tre gruppi prevedono scenari più o meno sofisticati e competenze che devono essere messe in campo che sono più o meno diciamo evolute naturalmente quindi se lo scopo è quello banalmente di raccogliere un ordine allora tutto sommato può essere un'operazione abbastanza facile per un diciamo laureando in ingegneria informatica da fare se invece lo scopo è quello di raccogliere un ordine vedere accadere delle altre cose che a loro volta ne innescano e delle altre ancora quindi moltiplicando e complicando lo scenario ecco naturalmente si complicano e devono diventare sempre più specialistiche le competenze di chi di chi mette le mani come sempre bisogna avvalersi di specialisti per poter installare questi software perché altrimenti sarebbe impossibile almeno per me è impossibile si dipende esatto dagli scenari che vanno messi in opera questo io lo dico sonia perché in qualche contesto mi sono sentito dire ma come i doc costa così tanto no e il plugin tal dei tali costa poco oppure a parti diciamo a posizioni invertite accade il contrario ecco il motivo un motivo c'è sempre le aziende conoscono tendenzialmente conoscono il proprio mercato e quindi se un'applicazione ma può essere c'era l'advisor a dei costi è perché quei costi sono giustificati da uno sforzo altrimenti l'obiettivo di ciascuno sarebbe quello di avere più clienti e e naturalmente abbatterò ogni barriera d'ingresso una su tutte quella del prezzo naturalmente però se chi diciamo decide di andare a mercato con un certo prezzo lo fa perché è evidente che ha o dei costi correlati o che offre un servizio che è il corrispettivo di quello che che gli viene chiesto insomma allora pietro volevo chiederti ultima domanda questi software questi connettori qualsiasi tutti questi strumenti sono indicati per tutte le aziende ci sono dei clienti più targhettizzati nel senso che più indicato per alcune aziende rispetto ad altre quali sono i pro e i contro di questi strumenti sì indubbiamente esiste una audience di riferimento nel nostro specifico caso vale un principio di buon senso generale che è il seguente quando tu hai messo in piedi qualcosa che funziona allora senso automatizzarlo se non hai ancora messo in piedi niente bisognerebbe capire come mai hai il desiderio di automatizzarlo ecco automatizzare qualcosa che non è ancora in opera lascierebbe pensare che è un pezzo di chi voglia voglia farlo più che una completa esigenza e quindi nel nostro caso mi vediamo che riusciamo a lavorare bene con quelle aziende che hanno già avviato per esempio un certo flusso di ricavi quindi che hanno dei processi che sono da epicentare per tutti coloro i quali sono all'inizio noi abbiamo verificato che l'esperienza di automatizzare prevede dei prerequisiti necessariamente che hanno a che fare soprattutto con i marketplace e cioè se tu hai un sito e commerce è il desiderio di iniziare a vendere su amazon anche il plugin può esserti di poco aiuto perché perché il tuo ostacolo potrebbe presentarsi all'apertura dell'account di amazon banalmente come tu sai in qualche caso anche l'apertura dell'account può essere un'operazione diciamo che ci sono stati dei periodi in cui era diventata l'operazione più difficile da fare perché amazon su questo bloccava tutti gli account quindi effettivamente soprattutto poco tempo fino a poco tempo fa aprire l'account su amazon era diventato un privilegio adesso forse amato si è reso conto e ha cercato di facilitare un attimo l'operazione però effettivamente così e poi quello può essere il primo ostacolo ma il primo di una lunga serie in alcune circostanze ci può essere la il popolamento di una certa categoria che magari è una categoria peculiare insomma mi vengono in mente gli alcolici che richiedono una un'autorizzazione o i materiali che hanno a che fare col col benessere con la salute vedi gli integratori dei farmaci e così via e quindi in quei contesti noi vediamo che o l'azienda ha quelle competenze di base quindi al suo interno all'interno del suo organico alle competenze di base o le affida ad un freelancer ad un'azienda terza come può essere la vostra che gestisce e per conto del cliente tutta quella prassi che non è una prassi come dire banale ma che richiede di per sé un suo know-how specifico e se lo diciamo di amazon possiamo dirlo altrettanto di vedi di aliexpress di zalanto e di wish e così via e allora in quei casi diciamo il nostro il nostro la nostra audience non è più il imprenditore ma è il converse manager cioè colui che svolge quella funzione in qualche contesto felicissimo per noi quella figura è anche interna quindi mi vengono in mente alcune multinazionali con cui noi lavoriamo naturalmente hanno il loro interno competenze processi anche mi sento dire budget da allocare che sono sufficienti e che giustificano diciamo la messa in opera di una macchina che fuori si rischia di essere un pochettino più complessa di quello che magari qualcuno può avere l'idea che sia quindi diciamo che il tuo consiglio è avviare il business che può essere su amato sui vari marketplace magari anche manualmente per richiedere le autorizzazioni per caricare i prodotti creare tutti i contenuti e poi automatizzare i processi questo da quello che ho capito sì sì naturalmente sì quello che dico io è questo poi naturalmente questa diciamo questa affermazione andrebbe contestualizzata allora se tu sei la fia faccio per ipotesi che ha processi personale e che coglie nella distribuzione del catalogo un'operazione che sarebbe frustrante da fare manualmente allora quella cosa l'automatizzi però appunto nel progetto parte con una per così dire un'organizzazione dei presupposti che giustificano quel quello sforzo in altri in tanti altri contesti mi viene sempre da ricordare che il 97 per cento delle aziende in italia a meno di 10 pendenti no quindi tendenzialmente le aziende in italia sono piccole ecco in tanti altri contesti il fatto di dire parto automatizzando facendo un progetto tecnico che è che articolato può non essere la scelta giusta ma può essere invece la scelta giusta quella dire come appunto riassume di giustamente tu inizia a fare rendite inizia avere i soldi allora quei soldi in qualche modo danno anche lo diciamo lo sprone giusto all'imprenditore di di voler mettere attenzione quindi mettere budget e prevedere una serie di attrezzi tecnici che rischiano di essere un pochettino più sofisticati del previsto poi naturalmente sonia il punto è che bisogna contestualizzare queste affermazioni però in idea di principio come regola generale a mio modo di vedere è giusto ok ora io ti ringrazio pietro per aver partecipato a questo video per averci fornito queste informazioni perché il parere di una persona esperta tecnica nel settore per me è indispensabile ovviamente mio parere personale collaborare con te è sempre un piacere e spero che parteciperai anche ad altri video per approfondire questo argomento ma certo il piacere è tutto mio e la disponibilità come sempre massima grazie pietro ci salutiamo tutti gli utenti per questo video ci vediamo nel prossimo video ciao